vediamo di presentare uno studio di funzione dunque andiamo a determinare il dominio della seguente funzione che vedrete entrare in questo momento cioè la funzione y uguale al logaritmo di 1-2 radice di meno x questa è una funzione composta dalla funzione logarittmica e dall'argomento che è irrazionale per risolvere questo tipo di dominio bisogna fare sistema fra l'argomento del logaritmo maggiore di 0 e il radicando che deve essere maggiore o uguale a 0 questo tipo di sistema va risolto e la soluzione la vedete qui saranno per tutte le x maggiore di meno un quarto e tutte le x minore o uguale a 0 rappresentiamo graficamente la soluzione otterremo che il dominio, la soluzione del dominio della funzione è proprio compresa tra meno un quarto e 0 meno un quarto escluso 0 compreso dovrete fare esercizi di questo tipo sul dominio delle funzioni per questa settimana arrivederci